della Falco che non sia entrato se non sbaglio attenzione ai gol! il gol di Pietro Polli grandissimo gol che chiude la partita strepitoso calcio di punizione al 42esimo di Pietro Polli gran gol questo sicuramente da far vedere ai ragazzini il calcio di punizione battuto splendidamente da Pietro Polli